andrò a realizzare questa collezione soltanto con questi pennarelli che mi sono stati inviati dall'azienda parco ho fatto un video a proposito su questi pennarelli e ve lo lascio qui linkato da qualche parte su questo pezzo di carto ho fatto delle prove per vedere come si sfumavano i colori tra di loro e in più ho iniziato a creare una tabella per creare delle tabelle colori perché la sfida consisterà appunto nell'utilizzare soltanto questi colori nel frattempo ho aperto pinterest così faccio una ricerca sui colori e su quello che posso creare con a disposizione questi pochissimi colori per il momento vado a creare una composizione con questi toni al momento queste sono le tabelle colori che ho creato tra le diverse combinazioni andrò ad utilizzare questa secondo me è quella più armonica rispetto alle due precedenti su alcuni toni come potete notare ho provato a miscelare due colori per vedere se riuscivo a creare altre tonalità per darmi ovviamente più spazio a livello di colorazione purtroppo non è che usciva chissà cosa ovviamente la stagione che si abbina meglio è l'estate per creare il mood board utilizzo photoshop e mi aiuto con i righelli questo passaggio lo faccio per capire come riempire gli spazi e creare al meglio una composizione non c'è una regola ben precisa per creare questo tabellone di immagini questo deve essere uno spazio libero in cui inserire tutto ciò che può servire a dare ispirazione si sceglie un tema e si procede con la ricerca di immagini che possono essere utili per noi l'unica regola che io mi impongo è quella di creare una composizione armoniosa quando è possibile mi piace ritagliare delle immagini seguendo il contorno della figura e sovrapporle ad altre per dare più dinamicità al collage vi consiglio pinterest per la ricerca di immagini questo è il mio mood board finito ho aggiunto anche la palette colori e se volete potete aggiungere anche delle note scritte sul tema disegnare le prime bozze significa iniziare a mettere su carta le prime idee non per forza questi modelli devono essere i definitivi questa fase è molto importante perché consente di capire cosa vogliamo e cosa non vogliamo per cui se i primi modelli che disegnate non vi piacciono non scoraggiatevi non state disegnando un abito visto da una foto ma state concretizzando una vostra idea ovviamente tutto questo richiede tempo perché dobbiamo dargli una forma trasformare un'idea in realtà alcuni di voi sui social mi scrivono di riscontrare problemi sull'ispirazione l'ispirazione secondo me è una fase non duratura questa dipende da molti fattori uno di questi è l'ambiente che ci circonda evitate il caos ambienti cupi e tutto ciò che può distrarvi al contrario invece la musica aiuta a creare ispirazione io quando devo creare un progetto ho bisogno di isolarmi dal mondo intero mi assicuro di stare in un ambiente armonioso senza nessuno che possa disturbarmi utilizzerò questo figurino come base per tutti i modelli in modo da non stare a rifare ogni volta il figurino quando si realizzano i definitivi non per forza si devono rispettare i disegni delle vozie iniziali si possono apportare delle migliorie se le riteniamo necessarie nessuno può dirci dove e come intervenire sulle modifiche di un capo d'abbigliamento questo perché è il frutto della nostra immaginazione una cosa che mi piace fare e che vi consiglio di provare è quella di cercare una foto di un modello che si avvicini in qualche modo al vostro in questo modo vi risulterà più semplice creare i volumi e la percezione del tessuto vi raccomando non sottovalutate il disegno tecnico è molto importante raffigurarlo al meglio con tutte le indicazioni necessarie per poter produrre un capo sia che lo facciate in digitale che a mano libera per quanto riguarda il digitale vi sono diversi software ideali per il disegno tecnico uno di questi che ho utilizzato io in video è illustrator illustrator è un programma a pagamento ed è disponibile anche su ipad vi sono anche altri software gratuiti come vectonator che io stessa utilizzo su ipad onestamente non so se ci sono dei software gratuiti per il disegno vettoriale da computer se qualcuno di voi ne conoscesse alcuni magari potrebbe scriverli nei commenti in modo da poter aiutare anche gli altri a Grazie a tutti. Finalmente ho finito. Questi sono tutti i disegni che ho fatto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere qualche tutorial nello specifico potete scrivermi qui sotto nei commenti. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Grazie a tutti.